Per me il Foodtech è composto da tre ingredienti fondamentali famiglia, materia prima e sostenibilità. Ciao, io sono Silvia, sono socia e responsabile commerciale di Mera5. Mera5 nasce dall'idea di noi cinque sorelle della campagna veneta cresciuta da nostro nonno che da piccole ci portava nelle risaie e poi ci cucinava dei risotti incredibili di portare avanti appunto il lavoro che il nostro padre da 40 anni spende nel settore agroalimentare. Mera5 è un'azienda che si occupa di coltivazione e trasformazione non di un riso qualsiasi ma di un riso canaroli classico e micronaturale coltivato seguendo tutte le best practice dell'agricoltura 4.0. Sono assolutamente convinta che per quanto riguarda il mio lavoro sia fondamentale confrontarsi continuamente e coltivare le relazioni. Quindi quando ho scoperto l'apertura di un talent garden incentrato sul food per me è stato assolutamente immediato e naturale venire con la mia azienda qui.